Eccoci, siamo nella Binella con il grande Beppe, stiamo procedendo sul sentiero che ci condurrà la Rocca dell'Aia. Siamo quasi ragazzi, vai vai Ale, non so cosa sto inquadrando, ma guarda che stai accaldando, stiamo a vedere il Kenyo, il Kenyo della Muerte, ma Muerte no, oggi è tanto tutto bello. Grazie all'astacco, adesso vogliamo andare lassù. Grazie all'inizio 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 Grazie all'inizio